cari amici e carissime amiche di youtube e di tutti i social un caro saluto da vincent lionaut lucida al pensiero democratico mi raccomando lasciate un bel pollice in su al video musica rock ad alto volume fin dalla prima colazione sfrenatezza assoluta con le bonazze a profusione e le bellezze celestiali sprofondà dolcemente nella siderale splendente dissoluzione